No, visto che Parenzo ha la simpatica abitudine di parlare ai miei libri senza leggerli, l'ha fatto anche con altro, non capisco... Il titolo... Io non ho mai detto, se tu avessi letto questo libro, io non ho mai detto che le sardine avessero perso, anzi avrebbero perso. Esattamente è successo quello che io pensavo che succedesse. L'Emilia Romagna è un post... Perché ridi? Rido perché... Perché ridi? Uno che fa... Perché le sardine e gli altri pescilessi della sinistra sono un bluff? Il giorno in cui l'Emilia Romagna vince, io fosse te e ritirerei le copie, ma per dignità... Tu dovresti ritirarti dalla vita per dignità. Cosa c'entrano le sardine? Cosa c'entra il fatto che siano... E il bluff sta nel fatto che questi non sono il movimento di piazza autonomo che erano cinque... No, sono un movimento che è pilotato e infatti votano... Ma vabbè, ridi, ridi, ti qualifichi da solo. Ti qualifichi, voglio sentire, sentiamo Borgonovo. Le sardine sono come il parenzo delle persone razziste e arroganti che disprezzano l'avversario e non sanno che altro dire se non esibire la superiorità morale non si capisce per quale motivo. In una regione dove storicamente ha sempre stravinto la sinistra, loro semplicemente sono una costola della sinistra, sono una costola del Partito Democratico. Hanno fatto manifestazioni convocate come il del Partito Democratico. Sono stati supportati dall'Ampi e dalla CGL. Hanno preso una parte più a sinistra e infatti se guardate le percentuali rispetto al 2014 Bonaccini prende due punti in più. Il Movimento 5 Stelle crolla, aveva il 13, adesso è crollato. E una parte di quelli che votavano il Movimento 5 Stelle hanno votato il centrodestra. Quindi questa è la situazione dell'Emilia Romagna. Non è una vittoria, è un'ennesima perdita di consensi della sinistra che io pensavo avrebbe sempre vinto e infatti ha vinto anche stavolta. Perché è dentro un sistema di potere dove forse voi non ci siete stati, non ci avete vissuto. Io ci sono nato lì dentro e ci sono le persone che hanno il posto di lavoro con la testa del partito dove comandi da 70 anni. Come dovunque chi comanda da 70 anni ha questo sistema. E sono le persone che mandi a votare. E aver preso quella percentuale lì per il centrodestra in quella regione è una cosa clamorosa. Adesso è inutile ridere dei 5 Stelle che comunque hanno contribuito. Tu ridi di cose che non sai perché sei una persona estremamente arrogante e razzista. Continuate a sottolineare queste cose, divertitevi e ridete finché lo potete. Posso un attimo? Adesso ho trovato la clara di Fusati, due domande secche.